Beh, intanto però facciamo un piccolo regalo, ci stai? Come no? Ah, te lo fai tu questa volta. Allora, una chicca dai, un piccolissimo pezzo di teatro per voi, eh? Perché ci aspettiate con più interesse, quando poi ci potremo riabbracciare. Intanto vi baciamo da lontano. Vado? Vai, vai. Mi chiamano, confidenzialmente, il Parkinson. Sbagliano. Dovrebbero chiamarmi I Parkinson. Non siamo definibili. Non abbiamo un solo modo di manifestarci. Abbiamo mille sintomatologie. C'è chi trema. C'è chi trema. Chi non si muove più. Chi non cammina. Chi non riesce a stare fermo un attimo. Chi non sa più usare le mani. Ogni Parkinson è diverso dall'altro. Riccardo ne è un esempio. È uno di quelli che ho colpito di più e più gravemente. Ho bloccato i suoi passi e lo costringo a muoversi ininterrottamente. Lo tormento con gesti involontari, faticosi e dolorosi. Riccardo è l'esempio vivente della paralisi agitante che aveva descritto il dottor James Parkinson all'inizio dell'Ottocento. Eppure Riccardo, che non può più camminare da solo, che dipende dalla sorella e dagli altri familiari anche per vestirsi, Riccardo ama ancora la vita. Ha fatto di tutto per combattermi. Anche un intervento chirurgico al cervello. Si circonda di amici, ricorda e viaggia con i suoi ricordi, scrive. Sa che ogni sua giornata è un percorso di sofferenze da attraversare. E lui semplicemente lo fa. Le attraversa. Siamo tanti. Siamo i Parkinson. Anche Riccardo non è solo. C'è tutto un mondo attorno a lui. E questo mondo, questo affetto, questa solidarietà mi limitano. Mi combattono anche quando ho colpito così forte. Oh, oh! Grazie a tutti